Buondì, buonasera e buonanotte. Siamo sotto attacco. I pandorani ci stanno sfidando e stanno invadendo una delle nostre basi. E noi, leggermente, ci siamo preparati a tutto questo. Come andrà a finire? Ci martelleranno o saremo noi a dargliele di santa ragione? Chi lo sa? Vedremo dopo la sigla. Rieccoci qua. Questa sarà la base che sarà attaccata entro 4 ore. Noi abbiamo una Masked Manticore che sta andando avanti. Possiamo creare un Motion Detection Module entro la scadenza. Puttiamocelo, che ci frega. Dove è scarsità di tech. E anche un po' di material. Stanno scendendo il cibo. Sto aumentando il mutagen, quindi possiamo untare un po' di mutagen. Però questi soldati qua li abbiamo già più o meno attrezzati, per quello che ci serve. Qui potremmo dargli questo affare qua, visto che è un heavy. Però non avrebbe molto senso. È un heavy abbastanza... che ha bisogno di forza. Quindi ha bisogno di rinforzarsi. Quindi quando ci sarà la Masked Manticore, finirà dritto dritto nella nostra base di rinforzo. Loro stanno estraendo Living Crystal. O ricalco. Qualcuno lo sta estraendo. No, devi estrarlo tu. Ma tu hai fatto trading e adesso non puoi più farlo. E tu vai dritto dritto che ci serve... Siamo poco sotto dal costruire, da avere i materiali antichi per costruire un'altra Scorpion. Gunther Kennedy. Tu più pompati con calma. Abbiamo un sacco di genitalia che potrebbe... Nevi, un assalto, un tech. Potremmo farci un altro paio di aerei praticamente. Solo quella gente che c'è qua. Ma... Ora come ora dobbiamo pensare a... Abbiamo finito anche la ricerca su The Fuel Tank. Va bene. Possiamo costruirla. Quanto costano le ARPD? Io immagino. 250 material. The escape range increased by 500. Potrebbe essere interessante, eh? Potremmo fare anche un archeologico proprio perché ci siamo. Ci siamo! Ci siamo! Ci stanno attaccando. Non ci danno la possibilità di armare i nostri... Meno male che erano già... Meno male che erano già pronti. Eccoci. Ci stanno attaccando. Non ci è andata la possibilità di armare i nostri difensori, ma... Penso che siamo già belli e pronti. Stavolta abbiamo... 20... Quanti ce ne abbiamo? 6... 12... 13... 14... 15... 16... Persone pronte a partire. Qui è dove arrivano. Ah, 16 per con... Di cui due veicoli... Pronti all'uso. Quindi... Saldiamo. E vediamo un po' come va a finire questa storia. Vediamo chi osa attaccarci. Potremmo già metterci un po' in Overwatch. Ne siamo con un po' di Overwatch che non fa mai male. Vuoi visibilità su quello? Eh, non male. Fai un passettino in avanti, va. Quale è già reso innopo. E mettiti in Overwatch anche tu con questo, va. Per ora siamo abbastanza... Ah, giusto. Questo è il simpatico teschio. Questo è il punto di fuga. Ok. Per metterci qua e metterci il corpo. Sa che botta. Tu non puoi più fare nient'altro. Ah, voi siete tra l'altro giù. E qualcuno sta anche colpito da Frenzy. Quindi... Non puoi metterci in Overwatch. Ah no, sì che puoi metterci in Overwatch con questo. Tu hai lo Scorpion. Una leggera trappola di Overwatch. Babyface. Metti di qua. Sì, vabbè. Anche senza Overwatch. Dai, gallo cedrone. Zack McCracken. Non puoi metterci in Overwatch con questo, ne? Eh, Zack, vai avanti allora. L'armadillo. Spacca tutto. Tu hai armi paralizzanti. Oh, qua c'è un... Mastarino qua. Mettiti di qua. Senza spaccare tutto, senza spaccare tutto. Grazie. Infatti, grazie. È troppo gentile. Gennarino. Non puoi... Ah, giusto. Ma non puoi lanciare i... I vermi perché è troppo... Se scendi sì, però. Perché c'è una scala qua che porta verso il nulla? Ah, vabbè. Gennarino. Non mettiti dietro al nostro... A sfida. Gallo cedrone, un altro che deve piazzarsi vicino a... I nostri cari martellatori. Abbiamo ancora Angus Fangus. Comunque può muoversi di qua. Può già indurre il panico. Ha un... Ma quello va. Va bene. Perché no? È messersi in Overwatch. E per favore farlo fuori con la pistola. Perché va. Cioè, è abbastanza gente. Sul chi vive. Tu sei impanicato. Vediamo chi altro ha il coraggio di venire fuori. Un altro Mindfrager. Oh, brutto. Una maria di altro. Ci sta. Non possiamo catturare nessuno. Un tritone. Un po' di Mindfrager. Justamente, ma andava anche quello lì che tanto. Benissimo. Allora. Direi che come primo turno non è andato affatto male. Potremmo essere in superiorità numerica. Purtroppo non abbiamo nessun cecchino che vedo che ha armi paralizzanti. Porca miseria. Poteva essere un sacco interessante portarci a casa. Un po' di quella gentaglia. Non c'è veramente neanche qualcuno con la pistola. Sono solo i Neurizer. Non eravamo pronti. Non eravamo pronti. Tu hai armi paralizzanti. E tu devi muoverti. Ma più di tanto non riesci a spostare. Abbiamo una sfida che può farlo. Sì, qua. Vai, Dor. Vai, Dor. Non sono sicuro, però potrei andare avanti con i soliti. Non riesci a lanciare du bomb. No, più di tanto non si riesce. L'abbiamo pronti. Uh, può arrivare fin qua. Vai! Ammazza che lancio. Guardi dei confini nella mappa. E dentro di nuovo. E abbiamo visto che c'è una sirena. E a Lyon. E quindi questo potrebbe essere quella che mi porta a casa. Questa tua e questo per usarlo ci hanno due acion point, eh? Mi arrivo fin qua a paralizzare. E poi sono la merce di tutti. E non va bene. Facciamo che tu sei la difesa che arriva fin qua, va? Tu però puoi muoverti in avanti. Uno di meno. Mettiti qua, va. Quanto che non sei in Overwatch. Tu ne hai... Tu sì che puoi... Devi anche sparare direttamente. Max, fordì. Spostati un pelino più avanti. Andiamo un po' di Mind Control Immunity. Tu puoi metterti di qua. Ready to rock. Vai! E un altro di meno. Gallo cedrone. Hai paralizzanti? No. Mi si deve muovere Babyface. Oh. Tu puoi piazzarti qua dietro. Here comes the Phoenix. Non so se bombardiamo da lontano. Qua poi non riesci più a spostarti, no? Gennarino. Non lanciate un altro Firewall. Bello, bello. No, eh? Non sono fatte. Di qua sopra. Di qua sopra? Perché no? No. Non è stata una grandiosa idea. Rocket leap non funziona. Granché. Da queste parti. Vai qua. Lion Catcher. Metto qui qua. Contetto da lì. Ti si. Alexandro Mussa. Sempre a difesa. E tu? Io? 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 Sempre a difesa. Sempre a difesa. Tutti quelli che si muovono, muovono. Dado. Tu non puoi muoverti di qua. Eh, posso capire la ultima. Ho scusato la copertura. Viamine. Scudo. No. Tu fai un passettino indietro. Sì. E tu scudali. Scudati. Sfida. Pronto a correre dentro. E a paralizzare. Ah, ci sono nuove rincalze. L'ha colpito? Gli ha fatto del male? In teoria fa del male. Povero vermicello. Povero vermicello. Mi sa che dovremmo usare le armi paralizzanti. Sfida. Addio. Musso. Dovremmo fare qualcosa per la zona nera. L'ho fatto malissimo. Ahà, siamo tutti con Mindcon... Roll Immunity. Va bene. Non l'ho paralizzato. Questa non è una bella notizia. Anche perché... Adesso dobbiamo buttare dentro l'IPC e non ci passa. Questa è stata un po' ragazzata. 12-1-6-4-0-8-4-0-8-0-8-0-7-0-9-0-8-0. 8-13-0-8-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-0-9-0-8-0-6-0-8.0-8-0. portiamoci a casa la sirea però dobbiamo farci avanti gallo perché potremmo fare... faccio così? beh... non riesco almeno a fermare non riesci a buttarti avanti nella mischia? sì, vai Gennarino... ah tu hai un'altra arma paralizzante eh... è troppo... è troppo... due dieci... questo è quello che ha meno di tutti però come paralisi siamo un po' a rischio ma ci trovi la troverai paralizzare ecco da missione 1 con... veleno... con... virale non è virale vai molto bene guarda... entra... io... hai visibilità su qualcuno... ah... rocci... tu dov'è una buona visibilità? vuoi visibilità solo su uno eh? beh il cerino non è bisogno neanche dello scudo si riesce a far... aggiungere il panico? ah... questo è paralizzato ah lui già ora quello che mi dà più fastidio di tutti è il tag questo qua, il maniac così riuscire a sparargli solo un colpo per poi battermela proviamoci vediamo se riusciamo a colpire... no! vabbè ritrovoci dai vabbè ritrovoci dai girati un po' almeno un colpo l'abbiamo tirato allora... tu potresti scudarlo vabbè ritrovoci dai donabondio mmmh andiamo alla via larga Gennarino attenta anche tu la via là guarda dove riesce ad arrivare non riesce a buttarti giù no eh? guarda che si può arrivare per forza di qua non riesce a buttarti giù no eh? e abbiamo ancora quel Tyrant attenzione 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 topratti? tu fattore? di qua è abbastanza divertente questa scena soprattutto quando inizia a dire devo portarmi a casa della genitalia tu vai dietro l'APC la pelle va di qua ora uno angus fa angus non puoi indurre il panico a nessuno magari se ti piace di qua magari qualcuno non puoi indurre il panico non validi target tu quanto hai di will point un bel po' eh prossimo turno devi correre mousse con visibilità sul tag questo era solo una scena di scena che hai sbagliato di nuovo colpire eh non pensavo che max power fosse già pancato vediamo un po' dove vai paralizzato è un altro sirenz questo fa male questo vabbè vabbè adesso andiamo a paralizzare intanto paralizziamo questo hai preso il nostro veicolo mannaggia te uuuuuh bel colpo bel colpo bel colpo bel colpo bel colpo calmi cominciamo il giabelli che ha posto Mi ha fatto un male cane. Ah, là c'è un male. Ah, giusto, tu non hai armi parolizzate. Tu metti i quadri. Ah, qua dente, scusami, tu devi recuperare. Ammatta. Sono un cecchino migliore di mussa, e non è una bella cosa. Ok. Permossa indietro. Ah, tra l'altro ho colpito uno che era già paralizzato, ma fa niente. Vorrei andare a paralizzare anche questo. Not an auto will points. Mannaggia. Ah, giusto, perché questo è stato colpito dallo Psychic Scream. Però se stai qua non è molto salutare. Piuttosto perdiamo un turno di più, ma... Siamo così, muoviti di qua. Dagli un colpetto. Perché qua lo è bello tosto da paralizzare. Posso arrivare fin qua? Dagli ne due, va. Ok. 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 Tenarino. Portiamoci a caso anche questo, che sono tanto gustoso, mi aiutagendo. E torno qui troppo. Ma non tu, tenarino. Tre diciannove. Abbastanza messi bene. C'è solo questo e quell'altro. La staffa fuori, eh? Ehm, tuuuu. Bene, hai finito di lavorare per oggi. Ti era solo scudo. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. No. Del punto. Si può solo mazzuolare qua. Here comes the phoenix. Oh yeah. Vai. Tu puoi muoverti da questo pull the sack? No. Allora rimettiti giù. Ecco, ti sai dagli una colpettina in più di paralisi, va? Abbiamo un mindfrager che tra poco si mette in moto. E ha due punti vita. Scusami, hai due punti vita? Allora, molto, eh. Cerchiamo neanche. Tu non hai dashing né niente, eh? Mettili qua, poi questo qua ti fa un masso tanto. E io non voglio. Non ci sono altri ripari, se no in questo qua. Poi. Mancato. manco distriscio. Manco distriscio. Giupè in quarto. Ah, non vale la pena. Dov'è una punta questa? Tu riesci ad andare fin qua. Alla fine non riesci a muoverti di più di andare fin qua. Gallo, tu sei fermo lì. Tu puoi indurre il panico, eh? Quello lì, ma cosa bene preghi? Quello lì è già nostro. Potresti muoverti di qua. Riposizione, prioritizzando la velocità. Sì, tutto i shenanigans. Militarespo. Chi puoi indurre il panico? Anche te. Sì. E il thug se si muove è morto. No. Tu non hai molto da fare, non lo sa. Non lo sa. Il drone, il door. No, non mi sono accorto che non ho dato in Still Friends. Il generino c'è ancora. L'armadillo è qua. Non può sparare nessuno di quelli che mi interessano. C'è il thug e basta. In overwatch. E provo a paralizzare qualcuno. Angus, fangus. Angus mi spiace questa missione qua. Prendere un po' più di esperienza. Oh, però. Vai. Almeno vedremo un po' più di esperienza, dai. Via. Tu sei rancato, nessun altro rinforzo. Il thug. Che mi interessa. L'hai colpito o non l'hai colpito? Tu l'hai colpito. E abbiamo finito così. Non l'abbiamo finita? Perché non l'abbiamo finita? Perché non l'abbiamo finita? Kill all enemies. Ah, perché lui, è giusto, era impanicato, ma non era né paralizzato né tantomeno morto. E vabbè. Spacchiamo tutto. Paralizza, va. E così si conclude la difesa della base. Succa. Quanta gente. Donna Bondi deve livellare e Angus Fangus deve livellare. Ma non sono neanche scesi in campo tutti. Quei tre nuovi, no. Adesso mi tocca spostarli. Ora quanta? Abbiamo preso pure uno schioppo, abbiamo preso 5 nuovi personaggi che diventeranno simpatico mutagen Abbiamo un estremo bisogno di tech Ma proprio estremo Quindi dovremo mandare la muscad manticore qua L'armadillo ha fatto un ottimo lavoro L'armadillo ha fatto un ottimo lavoro L'armadillo ha fatto un ottimo lavoro Abbiamo due opzioni Aspettare che diventi una citadel o distruggerla subito Aspetta, nel frattempo sta minando Alpha Andare a minare Fin Minna Charlie ha due che non può ammigliarsi Salute Ok, tu vai a minare O ricalco Non mina o ricalco se sta qua Deve andare per forza qua Ok Ok Rattusa Voi non state minando un tubo, ne? Delta è più utile se va a liberare qua Bravo, adesso è a posto Per lì Eh, loro possono andare Direi Dai, proviamoci Unaffordable No, non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma tu hai 20 So darti un po' più di forza Un po' più di spero Ci dà Ci dà Ma cos'hai qua? Di due willpower, mi interessa Qua non so che ora siamo a meno danno Heavy weapon proficiency Due strength Meno 15 perception No Di due willpower, mi interessa Dire qualche colpa in più Don Abbondio Questo Questo Tu non hai Non possiamo metterti delle armi che non costano niente, ne? Quindi se avessi dei piccoli problemi Ma chi dovevo darlo al modulo? Mi ricordo più Q-Bert Per andare in Mark for Death? Oppure una ricarica di willpower? Però non va bene così A tentaculate Ok Per stare attento Se becca qualcuno Per cercare assalto Ma è un Matoch of the Ancients Guarda guarda E troppo poco willpower Octopus Garden E' che va bene così E' una granata completamente E' piuttosto l'incendiaria Per usare questo Per usare questo Tra l'altro Bene Si va Ok Schipetta di Masked Manticore Però è l'aereo più utile che abbiamo 18 18 Ce ne sono Quante casse? Abbiamo due punti di fuga che sono qua Allora una cassa qua Dobbiamo spostare tutto il team di qua Dobbiamo spostare tutto il team di qua A parte per quell'unica cassa Sono tutte concentrate di qua 4 5 sono 5 casse 8 uomini In più La sesta che è qua Ecco possiamo mandarci un cecchino Allora Solita cosa Tu potresti andare qua Vabbè giustamente Questa è già l'erratata Arbinger Mind control è acid spray Questa è proprio il ruolo per rompipalle Ho una vita grenade tra l'altro Interessante Tu ne hai due di cosi Mi puoi prendere roba E metterti in mano Guardi Ho anche munizioni per le torrette Interessante Direi che la sirena deve morire il prima possibile Ah giusto Diciamo ma che strano coso Ah giusto eh sì Allora Tu hai lo schioppo Quello che non costa Però non riesci a muoverti fin qua Perché sei abbastanza scarso di movimenti Tu hai la possibilità di attaccare qualcuno E dargli anche Stordimento E allora iniziamo Diamo di assi il torso va Non è stata scordita Non è stata scordita Ecco mi ha fatto abbastanza male Ma non abbastanza Iniziamo a confondere un po' le acque va Tu non riesci a sparargli Allora La tua visibilità su Dov'è? È là È là All'altra parte del mondo Donabondio Mettiti di qua ma Non voglio sorprese Tipo questo tritone Oh Marksman Questo è brutto 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 Eeeh Sai già cosa devi fare Seguo Seguo Eh non è morto Ora sì Addio Abbiamo un Mindfrager Vabbè Intanto andiamo a ammazzare quello Se ce la facciamo E beh Adesso saltano fuori tutti Adesso però deve morire Non c'è cazzo Riesci anche a recuperarla? No Non farlo Ehm Tutti di là Tu sei un po' troppo avanti rispetto al resto del film però eh Fai un po' troppo avanti rispetto al resto del film La facciamo un po' troppo avanti rispetto al resto del film Le metti anche tu in Overwatch. Hubert. Hubert se va qua viene preso dal Mindfrager. Ha un rischio che voglio fargli correre. Vabbè, il resto non conta. Hai anche una cassa di mutagen, ci sta. Allora. Facciamo così. Prendiamolo. Poi facciamo dashing. Se fai dashing, facciamo che ti metti di qua. Uno dei due si busca il Mindfrager. L'altro lo libera. Sono abbondio. Non puoi più fare niente, ne? Va bene. Va bene. Ti ho rimasto male che con un colpo di Scyther sono sopravvissuti. Dai, chi mi prendi? Hubert o Tentaculat? Hubert. Va bene. Va bene. Ci sta. Per il qua. L'ho esagerato con la tua clearance Vai verso la cassa Se avessi un veicolo Me lo sarei portato dietro Guarda che c'è anche Ammazza Tanta roba Devo mandare avanti qualcun altro Non ho portato dietro troppa roba Dashing Dashing Andiamo a prendere un po' di roba Uno schioppo già bello che ho fatto Un bel po' di medikit E questo Saranno dei cecchini Da portare Da cui scaricare roba Tu? Puoi fare scambio Ha fatto Pusgarden Ha un sacco di forza Portiamoceli dietro dentro Non saranno un duo Questo cos'è? Il Dierne Enforcer Ah È la mitraglietta Quella più Potente Door Vai No Non è stato bello Non è stato bello Vai Molto bene E portafiori Un mermidone Un dannato mermidone Dove va il mermidone Acid 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 mermidone Eccolo Tu spostati avanti Non c'è qualcuno Sbolognare Un po' di roba Tu vai A partire Ammazzare Diabolic Diabolic Andiamo A prenderne Dell'altro Che tu Lavatrice Sei bello Che pieno Eh Vai di qua Cecchini Va bene così però Dichiamo di usare armi Che non consumano risorse Un altro Mindfrager Vediamo un po' dove va Benissimo E questo non può più fare niente Corri Con il Mindfrager Non mi interessa Oh però Possiamo fare con Rapid Clearance Di faccio un Fortetto 2 Però No È uno spreco di Willpower E quando gli ho messo il torso Così È molto più preciso Benissimo Diabolic Devi correre in avanti Oh Jacket Lui fa i salti Kubert Cos'è questo? No 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 Non ci credo Scaricali un po' di roba Non ci credo Poi lo continuo a chiamare Rinforzi Se no lo fermo subito E se no lo ammazzo subito Questo è questo qua Non riesco a ammazzare Neanche quello lì Rapid Clearance E uno E due Facciamogli del male fisico Cos'ha l'acid spray Sicuro New or toxic spray Persurrect corpses Anche Vabbè La cosa importante Adesso è fargli un male Che fa provincia Addio Maledetto Tanta bella roba E non possiamo Andarla a prendere Tu sei pieno di roba Deve lasciare giù Dei 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 Bravissimo Inizia a essere pericoloso Zare sto schioppo Infatti L'importante è che non sia scoppiato Allora tu Puoi muoverti Intanto Quindi facciamo Quick aim Sfruttando l'abilità Che ti dà ancora più willpower Bene E adesso corri Dona bondio Vai Dashing Attenzione Ah no Octopus garden Che è pieno Come un uovo No mi sa che Tra i due Forse è meglio darglielo a Kuber Questa roba Che tu riesci a correre abbastanza Andiamo a vedere cosa c'è in questa cassa Non posso scaricare delle casse E poi andarle a prendere delle altre No Scusami Guarda quanta bella tech che c'è qua Non mi ricordo più che cosa c'è Non c'era sicuramente la roba gustosa Kuberth no action point cost Aspetta Kuberth Prendi la roba da diabolica Buttagliela La roba che non ci serve Anche questo Via Non ci serve Neanche questo Non ci serve Prendi la vita grenade Mi ricordo il costo del materiale di questo Ma va bene così Allora Dona bondio Tu devi ancora spostare Dona bondio vuoi vedere qua Se c'è qualcosa che vuoi prendere Due caricatori del cavolo Pezzano un po' di casse Medikit No bondio deve andare qua Ancora questa cassa Diabolica Come stai messo Oh Puoi andare a prendere anche tu le casse Sì ma ti serve In still frenzy Vai No Tentaculate Può farlo Caricalo Eh Questa non era carina Ma non possiamo portarcela dietro Vabbè Qualcosa dobbiamo lasciare indietro Tant'è che non ci sia nulla di Eccessivamente Costoso Questa è quella di qua Tu potresti andare di qua Eh ma non Ho sbagliato Perché adesso non hai gli action point Per andare a prendere Ancora due casse Cosa ti espone al fuoco Del Tyrant Fatto Facciamolo fuori Quella sed mirmidon Perché mi ha rotto Tre quarti di valle Ti metti di qua Un altro mineframe E va bene E va bene Caricati Caricati Tu hai visibilità su? Ah però questo ha sparato prima Ma non mi ha risposto Ho fatto fumbling E tu copri la ritirata E tu copri la ritirata Di quello Va bene Va bene Dovamo già pensare a ritirarci Va bene Va bene Va bene Va bene Sare di qua Vediamo se c'è qualcosa Che ha senso portarsi dietro Lì sono solo munizioni Solo munizioni Tu? Come stai messo? Vuoi prendere? Ah questa è la cosa più nutica Questo E questo E poi questo Tu dagli un po' di friend La merita E muoviamoci verso casa Anche tu Corri Non puoi muoverti Tu sei già messo bene Per evacuare E tu Poi non potete fare niente Per evacuare tra l'altro Beh 1, 2 3 punti di evacuazione Siamo abbastanza messi bene Dai, dai, dai Vabbè Finché sono loro tre Che la possiamo ancora cavare Allora Tu non guardare in faccia a nessuno E muoviti il più vicino possibile A uno dei punti di uscita Per quello più lento Non hai friends In questo momento Tu fai la stessa cosa Questo rumore di ferraglia E se avessi davvicinato a qualcuno Gli spariamo Guardi qua Dobbiamo coprire la fuga Scoppiando malamente Ne va la pena Tu sei bello carico Corri ragazzo laggiù Che ce ne andiamo Dov'è un appondio Qui, subito Alla fine non è male Questa combo Brist Assalto Ce ne sono i migliori Però ora va bene così Lavatrice Se si avvicina a qualcuno Troppo Gli spariamo Octopus Garden Tu sei già pronto per fuggire Pentaculate Anche tu Pronto per Fuggire Va bene Fine Facciamone avvicinare Adesso faccio scoppiare Il vermicello Gli brucio la mista Abbiamo un altro Arthron Che è venuto A farci visita Vai Direi che possiamo Scappare tutti Adesso Dov'è un appondio Vabbè Dai Vediamoci Ecco tu Via E va bene Tanto Tanto sono gratis Che ho portato Un sacco di roba Cazzo Vedo un appondio piano piano aumenta Di livello Guardate quanta roba 800 tech Figata Anche 300 mutagen Due fucile da cecchino Quattro medikit Una vite grenade Tanta roba Abbiamo un vengeance source Che si è rotto Da babyface Va bene Lo prepariamo Qualcuno sta andando lì A rispondere alla chiamata No Ci mandiamo Charlie Ci mandiamo Charlie No è Delta Che sono No Presto andare a recuperare Anche questi materiali Poi questi materiali Nel frattempo E' quasi finito qualche cosa Satellite at link Ti ha inserito un satellite at link Da qualche parte Che non mi ricordo più Anche tu stai Intanto Masked Manticore Devo andare qua Andiamo a recuperare Ancora un po' di roba Secondo me però Voi conviene Stare qua Charlie Phoenix forward command Bene Qua Ok Va bene Direi ottimo Ma questo lo vediamo La prossima puntata Che dire È stata una Bella puntata Abbiamo si è recuperato Una marea di risorse Che difese una base Dalla prima volta Ed è stato Proficuo Quindi che dire Ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao